Vuoi un caffè? Una semplice frase pronunciata spesso, ma dietro cui i carabinieri del comando provinciale di Termo hanno scoperto un giro di spaccio nel centro del capoluogo provinciale destinato anche ai minorenni. Proprio da un minorenne l'inchiesta chiamata Quei bravi ragazzi è partita un anno fa. Fermato a Piazza Dante e con in casa mezzo chilo di hashish è stato il punto di partenza che nel corso dei mesi ha portato già a dieci arresti in flagranza diversi dagli odierni indagati e oggi ad eseguire undici ordinanze di custodia cautelare di cui quattro ai domiciliari ed il resto in carcere. Nel corso dell'operazione di questa notte finiti agli arresti in flagranza ulteriori due soggetti con in casa circa 4 chili di hashish. In totale gli indagati per detenzione e fini di spaccio sono 9 terramani compreso un 17enne, 4 marocchini, un gambiano e un nigeriano. Sono stati tutti fermati tra Teramo, Campli e Rovigo, tre sono ancora ricercati. Il minore è arrestato perché anche lui spacciatore si trova attualmente in una casa protetta su decisione del GIP del Tribunale dei minorenni dell'Aquila. Un sistema complesso dove l'aspetto più importante è rappresentato dal fatto che soggetti minorenni non sono soltanto acquirenti di sostanze superficenti ma gestiscono loro stessi il traffico di superficenti nella zona di terra. Sono 36 gli episodi di spaccio contestati agli indagati, molti scoperti anche con le telecamere di videosorveglianza tra Piazza San Francesco, lungo fiume Pezzola, Piazza Garibaldi, giardini di Piazza Nassiria e Piazzetta del Sole. Sono circa 7 kg di droga sequestrata nell'operazione, soprattutto hashish ma anche cocaina, in un giro di appuntamenti dati sui social e su whatsapp che vedeva i minori per chi indaga spacciatori e consumatori. È stata un'operazione molto complessa quella operata stanotte a partire dalle prime luci dell'alba che ha portato ulteriormente al rinvenimento di ulteriore sostanza stupefacente a dimostrare, a dimostrazione appunto che gli odierni indagati erano tutt'ora attivi in questa attività di spaccio che ha interessato in modo epicentrico il territorio terramano, in particolare la città capoluogo. Ci ha portato per eventi del tutto occasionali, non abbiamo documentato episodi di spaccio in tal senso, anche al di fuori del territorio terramano, sul territorio nazionale dove abbiamo rintracciato un altro indagato. È preoccupante nella misura in cui tra gli acquirenti e tra i principali basisti dell'attività figurano molti minorenni, per cui è preoccupante per questo aspetto, tant'è vero che tanti riscontri sono stati operati nelle pertinenze di istituti scolastici o comunque in zone abitualmente frequentate da giovani come la famosa Piazzetta del Sole.